buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro con il sostenibile dove cerchiamo così di affrontare gli aspetti sostenibili e insostenibili delle nostre esistenze oggi abbiamo un ospite veramente molto gradito e il professor luigi di gregorio luigi di gregorio è un docente universitario si occupa di comunicazione comunicazione politica comunicazione dei social media presso l'università della tuscia ma il professore di gregorio è anche stato in passato capo della comunicazione della città di roma e manager sempre nel campo della comunicazione presso l'europarlamento benvenuto luigi e grazie per aver accettato l'invito grazie a voi buongiorno a bene allora parliamo di un argomento che è sempre più importante in tutti gli aspetti della nostra vita la comunicazione si parla spesso del peso delle parole dell'importanza delle parole e parliamone in un ambiente estremamente importante che dovrebbe condizionare comunque dovrebbe guidare le nostre vite cioè la politica e tu hai scritto uno splendido libro pubblicato in italia anzi pubblicato quasi in tutto il mondo dove parli parli della democrazia e parli della democrazia che è malata e parti analizzando proprio un dato che è un po sotto gli occhi di tutti che è il calo drastico della affluenza alle urne c'è a tuo avviso una correlazione fra questo calo questa disaffezione degli elettori alla all'ambito alla vita pubblica e a esprimere il proprio voto e la comunicazione che i leader attualmente stanno mettendo in atto allora in realtà eh diciamo la la crisi della democrazia ha tante cause eh la comunicazione c'entra adesso vedremo perché mh intanto c'è una cosa curiosa che è accaduto perché la democrazia la crisi recente della democrazia è iniziata quando quando in realtà le democrazie occidentali sembravano aver vinto in qualche modo la la loro sfida storica eh cioè se pensiamo al periodo in cui eh caduto il muro di Berlino in quel momento alcuni autori occidentali eh pensavano che la sfida appunto storica con i regimi non democratici fosse stata vinta definitivamente in realtà così non è stato nel momento in cui le democrazie devono essere all'apice della forma sono eh sono andate in crisi comunque hanno cominciato a vivere una nuova una nuova crisi eh di che crisi si tratta? Si tratta fondamentalmente di una crisi legata al eh a un costante crescente disimpegno verso la politica questo disimpegno scarsa attenzione scarsa partecipazione appunto lo possiamo vedere in tanti modi un un indicatore chiaro appunto è la partecipazione elettorale ma ce ne sono eh diciamo di diversi anche il fatto mh che appunto la politica per farsi notare nell'ecosistema dei media di oggi è costretta appunto a spettacolarizzarsi è costretta a operare appunto una comunicazione molto semplice molto sintetica spesso anche banale e tutto questo diciamo ci dà l'idea del fatto che appunto nel nostro palinsesto nella nostra dieta mediatica così si chiama in gergo c'è appunto tutto ciò che noi eh guardiamo leggiamo ascoltiamo nell'arco di una giornata visto che l'informazione è diventata sovrabbondante perché questa è una grande novità di questi tempi informazione storicamente è sempre stata scarsa e in mano al potere e e e quindi era fondamentalmente top down dall'alto verso il basso ed era molto filtrata da chi decideva appunto cosa comunicare a chi a quale pubblico eccetera oggi siamo appunto in uno scenario completamente diverso in cui l'informazione è sovrabbondante addirittura ci ci arriva incontro con le notifiche non le dobbiamo neanche andare a cercare ormai le informazioni e quindi in questo scenario noi siamo ovviamente sovrastati da questo diluvio informativo da questo tsunami informativo e quindi catturare la nostra attenzione è diventata la cosa più difficile di tutte e vale per la politica ma vale anche per le imprese diciamo qualunque prodotto della società contemporanea che sia appunto un prodotto in vendita sul mercato che sia un leader politico devono avere l'abilità di catturare la nostra attenzione che è sempre più scarsa a noi in generale dedichiamo sempre meno tempo alle cose che che leggiamo che ascoltiamo che guardiamo e quindi la politica in qualche modo si è dovuta adeguare a questo scenario si è mediatizzata diciamo noi in gerbio cioè ha dovuto adottare in qualche modo le logiche dei media dominanti i media dominanti da un po' di tempo sono la televisione che resta un media un medium dominante che chiaramente un medium incentrato sull'immagine quindi tu dicevi prima l'attenzione alle parole in realtà quando noi andiamo in televisione le parole sono l'ultima cosa che contano perché tutti i media incentrati sull'immagine che fanno spostano immediatamente l'attenzione appunto alla comunicazione non verbale o al limite alla comunicazione paraverbale quindi più a come parli che a quello che dici non a caso in tv funziona molto che cosa la la rissa verbale funziona molto il pathos le emozioni è un po' tutto intrattenimento non in televisione per intrattenimento non vuol dire che devi essere bravo solo a far ridere anzi in tv se riesce a far piangere sei ancora più bravo nel senso che le trasmissioni che generano appunto in generale emozioni funzionano di più da questo punto di vista appunto la politica di fatto è un po' vittima di questo sistema non è riuscito a gestirlo non è riuscito a governarlo si è dovuto adeguare e adeguare quando si ovviamente ha incrementato questo stato di crisi che è dovuta fondamentalmente al fatto che tutto il sistema è cambiato tutti noi siamo immersi appunto in questo ecosistema e quindi a partire dal demos diciamo tutto si è modificato in questo ecco luigi scusa se ti interrompo ma hai centrato un aspetto credo molto molto importante appunto poi ne parli anche nella tua pubblicazione proprio che il politico sia adeguato tu in un passaggio del tuo libro parli proprio del fatto che ormai ci sono c'è questa liderizzazione dei partiti cioè il partito si riconosce in un leader e non più in un'ideologia in alcuni valori già questo è un problema ma poi hai detto appunto da una parte le persone non leggono più cioè le persone ormai guardano soltanto evidentemente quando sartori diceva il passaggio dell'homo sapiens all'homo videns ormai si guarda spesso più di immagini ma poi giustamente dicevi il leader si è adeguato quindi il leader non detta più l'agenda non non spiega più che cosa sta facendo ma va a cercare forse anche proprio sui social che cosa funziona la notizia che funziona e effettivamente sotto questo profilo draghi all'inizio era stato forse aveva anche un po spiazzato forse aveva detto una cosa normale cioè comunicherò quando avrò qualcosa da pubblicare che diciamo che dovrebbe essere la norma ma ha spiazzato un po tutti sì però draghi ha un vantaggio se draghi è diventato presidente del consiglio senza passare dal consenso popolare non ha al momento diciamo intenzione di fondare un partito né di candidarsi alle elezioni ed è lì la vera differenza cioè quando la politica deve misurarsi col consenso automaticamente adotta quelle logiche lì quando la politica non deve farlo allora puoi farne a meno infatti draghi continua a comunicare relativamente poco e molto meno rispetto ai suoi predecessori o rispetto ai leader di partito anche attualmente in parlamento però perché non ne ha bisogno se draghi domani volesse fondare un partito e quindi misurarsi alle elezioni con gli altri dovrebbe quasi inevitabilmente entrare in quello stesso tipo di di logica perché altrimenti sarebbe oscurato dagli altri quindi draghi in realtà è una specie di di parentesi o di bolla non lo so per cui non lo non lo possiamo considerare né come un cambio di rotta della serie dopo draghi faranno tutti così scordiamoci non sarà affatto così né appunto come un'anomalia virtuosa è un'anomalia legata al fatto che ha un ruolo diverso non deve passare appunto dal voto popolare ma c'è però secondo te ecco tu dici scordiamoci che cambierà però insomma dovrebbe cambiare anche perché le persone si aspettano questo genere di comunicazione però questo genere di comunicazione non è che poi in realtà paghi perché l'astenzionismo alle urne parla veramente di numeri sconcertanti forse un po' il cittadino si è anche stancato ed è strano perché il cittadino cerca questo però poi quando si tratta di andare alle urne non risponde a questo modo di far politica perché si è veramente stancato di un'elezione che è sempre dietro l'angolo di questo consenso che deve essere immediato e quindi chi amministra non può amministrare con buon senso e traguardando il mandato ma deve amministrare per il consenso ecco questo questa catena sarebbe però da spezzare in qualche modo perché se no veramente scendiamo verso il barato prima o poi il fondo lo toccheremo secondo te o no? Io dico che non c'è mai limite al peggio quindi diciamo è difficile trovare un fondo detto questo allora è vero ma che succede? Mettiamo che Draghi appunto domani fonda un partito e decide di fare una campagna elettorale a modo suo si troverebbe tutti gli altri candidati che la fanno a modo loro cioè appunto da campagna permanente cioè alzando i toni cioè spiazzando cioè emozionando e lui finirebbe per essere abbastanza proprio marginato in termini proprio di tempi sui media in termini di capacità di catturare l'attenzione quindi è vero che da tempo noi diciamo ci siamo stufati di appunto politici che promettono e basta di effetti annuncio di ciarlatani di tutto quello che vuoi però poi alla fine li votiamo e li votiamo perché fondamentalmente le campagne assumono quella quel registro lì è difficile che tu possa diventare mediaticamente efficace e mediaticamente utile se non adotti quel registro lì quindi da questo punto di vista è un po' un circolo vizioso capisco che ci sia quell'esigenza capisco che un po' tutti ce ne lamentiamo appunto della situazione attuale però poi entriamo appunto in un loop per cui notiamo solo quelli notiamo solo quel tipo di performance altrimenti appunto un altro tipo di performance non entrerebbe neanche nel palinsesto mediatico e quindi un circolo vizioso che tiene dentro tutti gli attori chiave della comunicazione politica soprattutto soprattutto luigi scusa se ti interrompo forse perché ci dimentichiamo anche in fretta cioè non chiediamo più molta coerenza al politico di turno e mi viene in mente quella citazione di baumann in cui dice viviamo in un tempo fatto distanti no puntillistico dove quello che è successo ieri e quello che succederà domani non ci importa ci importa che quello che succede oggi e forse magari premiamo anche un determinato politico perché l'elettore chiede che il cambiamento ci sia subito e soprattutto che risponda alla sua esigenza individuale non tanto alla comunità quindi c'è proprio questo concetto da una parte comunità e dall'altra individuo e forse è lì che bisognerebbe andare a lavorare prima ancora che la comunicazione può la comunicazione in qualche modo lavorare su questo si può ma è difficile nel senso che noi veniamo da una storia la storia dell'umanità è fatta da grandi comunità cioè yu al noah rari nel libro homo sapiens e homo deus che dice c'è una cosa che contraddistingue gli uomini dalle altre specie animali e la capacità di creare grandi gruppi e di cementarli in base a credenze condivise le grandi religioni per molto tempo poi a un certo punto le grandi ideologie molto più recentemente poi si è sgretolato tutto cioè a furia di procedere col progresso con la modernizzazione diciamo queste grandi credenze che erano solide e stabili le abbiamo appunto messe in discussione e sgretolate però noi abbiamo comunque questa esigenza di essere nello stesso tempo egoisti e gruppisti e il gruppismo si cementa sempre su credenze condivise la differenza qual è che le credenze di oggi sono molto intense ma molto effimere non durano nel tempo ci accapigliamo ogni giorno noi facciamo parte di qualche gruppo litighiamo con qualcun altro sui social in questa logica binaria no del noi contro loro però è quasi come se fossero identità situazionali cioè ogni situazione ogni giorno creano i gruppi però il giorno dopo quei gruppi sono già sfaldati e quindi non hai modo di di cementarli così facendo ovviamente quelle identità abbastanza appunto stabili che poi portano anche a un voto stabile nel tempo non ci sono più infatti un altro tratto delle democrazie di oggi che sempre meno gente vota ma anche sempre meno gente vota lo stesso partito la volta precedente infatti infatti tu accennavi a cambiamo no a quelle a quelle a quelle insomma sostantivo che è molto utilizzato molto abusato perché deve ci deve sempre essere cambiamento qualcuno deve sempre proporre il cambiamento magari lì da decenni però alla nuova campagna elettorale lui cambia qualcosa è lo slogan più utilizzato nel mondo in campagna elettorale senti una un'ultima domanda ci stiamo avviando ma abbiamo ancora tempo per una domanda e abbiamo parlato di comunicazione politica beh in questo momento insomma di crisi c'è stata la comunicazione in tempo di pandemia adesso c'è la comunicazione in tempo di guerra ecco seguono sempre uno stesso copione le modalità di comunicare insomma in periodo di pandemia avevamo questo diluvio di comunicazione queste dirette la domenica dove si snoccerava il dpcm bisognava essere tutti attrezzati lunedì mattina adesso invece stiamo vivendo tramite appunto i canali social stiamo vedendo questo conflitto ecco le modalità sono sono cambiate effettivamente viene secondo te comunicato la situazione com'è realmente come alzi il sopracciglio le modalità cambiano le caratteristiche di fondo sono invece costanti e allora prendiamo la guerra la guerra da sempre da da se uno legge l'arte della guerra di sun su una delle cose che dice subito sun su è lavorare sulla psicologia delle truppe proprie e di quelle avversarie come si demoralizzano le truppe avversarie come si motivano le nostre facendo propaganda fondamentalmente quindi la guerra è in assoluto ovviamente il terreno della propaganda da tutte le parti ovviamente in guerra e anche perché è un terreno su cui è molto difficile puoi fare cronaca nel senso che anche il giornalista inviato di guerra è difficile sia effettivamente sul campo riesca effettivamente appunto a trasmettere più o meno tutto quello che accade quindi la guerra è per definizione uno di quegli ambiti in cui diciamo si lavora molto sul percepito e sul psicologico e è sempre stato così e ancora oggi è così sulla pandemia quello che posso dire che abbiamo avuto secondo me una lezione chiara della necessità di attrezzarsi in termini di comunicazione di crisi nel senso che per esempio l'italia aveva delle ottime unità di crisi non è famosissima quella della farnesina ma anche appunto la protezione civile anche mi pare il ministero della salute hanno delle unità di crisi però se uno va a guardare gli organigramma di queste unità di crisi non c'è mai un responsabile della comunicazione che ci dice qualcosa che ci dice che noi intendiamo per crisi un un evento un qualcosa che scatena la crisi per soluzione della crisi la risoluzione di quell'evento in realtà non è così perché è molto più impattante in termini di crisi la gestione della comunicazione di quella crisi l'abbiamo visto nella pandemia e la comunicazione di crisi ha certe regole che vanno seguite e non sempre nel caso della pandemia diciamo sono state eseguite né in italia né devo dire neanche all'estero perché chiaramente i fattori psicologici aumentano una pandemia genera una psicosi di massa a livello globale e tu devi fare i conti appunto con un pubblico che non è un pubblico in condizioni normali quindi deve essere comunque rassicurante rassicurante a tenerti i fatti spiegare bene diciamo tutti i caveat e questo l'abbiamo visto non è stato fatto in questo caso forse addirittura più dai virologi che dai politici nel senso che forse il problema più grosso è stato trasformare in comunicatori pubblici degli esperti che sono esperti della loro disciplina ma non sono esperti di comunicazione ma anche lì magari non ha funzionato nel senso che una volta che sono finiti a decine nelle trasmissioni televisive sono dovuti adeguare anche loro a quelle a quei codici a quei registri forse lì è stato un errore e sì anche perché giustamente come c'è c'è ognuno fa il suo mestiere e cioè un comunicatore sa la notizia cioè gli arriva la notizia e sa come comunicarla come bilanciare giustamente da una parte la rassicurazione dall'altra insomma l'attenzione tenere l'asticella alta ecco abbiamo ancora proprio pochi minuti a disposizione desideravo concludere con te con questo hai parlato di propaganda no insomma la propaganda nel periodo bellico è quello che quella che si fa ma io se ben ricordo già in inghilterra durante la forse la grande guerra si era parlato di materia proprio scolastica di fare entrare nelle scuole e la propaganda proprio per poter educare i giovani ad avere uno spirito critico e a leggere un po' insomma le notizie le informazioni e insomma usando la testa senza lasciarsi suggestionare troppo parliamo del secolo scorso e adesso siamo di nuovo appunto a capo non può essere quindi che insomma anche la comunicazione le modalità di comunicazione debbano entrare come materia di studio nelle scuole ma fin proprio già dal primo ciclo scolastico per in qualche modo avere cittadini più consapevoli più responsabili più critici con spirito critico sì sono d'accordissimo e la ragione per cui ho scritto demopatia quello diciamo di di far acquisire un po più di consapevolezza su tutta una serie diciamo di processi ma su questo la comunicazione la materia un po sfortunata perché ti ricordi quando nacquero le prime facoltà di scienze della comunicazione molti le prendevano in giro ma che è che sta fesseria non è tutto fumo così come la comunicazione politica tra i politologi era considerata vabbè tutti occupi comunicazione politica quindi quella roba inutile che non serve a niente che non produce niente e in realtà non è così è molto più impattante appunto ciò che produce la comunicazione spesso rispetto a ciò che producono le politiche no napoleone diceva non conta ciò non conta la verità conta ciò che la gente crede sia vero e magliavelli diceva governare e far credere quindi e la comunicazione sono d'accordo con te è in realtà fondamentale e in alcuni paesi è abbastanza insegnata già alle scuole superiori almeno i meccanismi chiave emittente destinatario i bias cognitivi come noi distorciamo in qualche modo appunto ciò che ciò che apprendiamo come cerchiamo le informazioni come le processiamo questo diciamo serve se non altro a conoscere meglio l'essere umano a conoscere meglio noi stessi una volta che ne hai più consapevolezza magari ti comporti diversamente davanti a un intervista di un politico davanti a un talk show davanti a un post sai cosa c'è dietro sai che lavoro c'è sai dove vuole mirare e quindi sei un po' meno disarmato quello sì sì forse forse luigi e adesso troppo dobbiamo avviarci a conclusione ma spero magari diverti ospite un'altra un'altra occasione forse ecco insegnare anche alle insidie della comunicazione perché adesso abbiamo immaginato la comunicazione quella insomma su un'ampia platea ma pensiamo anche all'insidia proprio della comunicazione tra due persone come dicevi chi parla solitamente il ricevente magari non ascolta mai che cosa sta dicendo colui che parla ma sta già pensando che cosa dovrà dire lui o come ribattere quindi effettivamente è un mondo enorme e si troppo sempre una cui si è dato poco credito e torna ripetere abbiamo aperto con il peso delle parole e direi che possiamo chiudere nuovamente dicendo che le parole hanno hanno un loro peso vanno sorpresate bisogna fare molta attenzione come come si utilizzano forse per senso di responsabilità e i comunicatori ecco hanno questa grande responsabilità tu ti senti questa grande responsabilità sì allora sì devo dire che quando faccio il consulente politico ovviamente mi adeguo alle norme cerco di sfruttarle al meglio e quindi forzo un po questa cosa però nello stesso tempo da docente metto sempre in guardia cerco di dare consapevolezza a tutti benissimo bene luigi grazie grazie mille per averci dedicato questo tempo e un saluto a tutti i nostri spettatori e arrivederci alla prossima puntata arrivederci